Sì. Ok. Mi dispiace di non aver cucinato. Volevo fare gli zitti al forno che vi piacciono tanto, ma ho perso la nozione del tempo e a un tratto... Oddio, erano già le cinque. Va bene così, alla grande. Amo il pollo fritto. Ho notato un cartello vendesi in giardino. È la casa del vicino o...? Glielo vuoi dire? Diglielo tu. Abbiamo assunto un certo Murray Bauman. Mai sentito nominare? No. No, non credo. Era un giornalista investigativo del Chicago Sun-Times. È uno famoso. Comunque, ora è un freelance e... ha consentito a indagare. Oh, è... è fantastico. No, è davvero... sì, fantastico, no? Oh, e che vuol dire questo di preciso? Che farà quello che quel figlio di puttana di Jim Mop... Scusate. Quello che la polizia di Hawkins non ha fatto. Che... c'è un vero detective che indaga. Vuol dire... che ritroveremo la nostra barba. Se c'è qualcuno che può trovarla... è quell'uomo. Ha già delle piste. Giuro, vale fino all'ultimo Penny. E per questa ragione vendete la casa? Oh, non ti preoccupare, tesoro. Stiamo bene. Più che bene. Per la prima volta da tanto tempo... abbiamo speranza. io... scusate, mi torno subito. È da leccarsi le dita. Ciao. Ciao. Grazie a tutti